Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle monete verdi per la settimana 4 della stagione 4 di Fortnite capitolo 2. La prima moneta si trova qui praticamente, nella parte a sud di Brughiere Brumose, e la trovate qui in bella mostra. Eccola qua, quindi dove c'è quest'albero, dove vi ho mostrato prima, qua, trovate la prima moneta verde. La seconda moneta si trova sulla montagna, qui praticamente, dove c'è Gattogrill, dove si stanno regando tra l'altro anche altri giocatori. Sulla cima di questa montagna troverete la moneta verde. Tra poco dovrebbe comparire, ci stiamo avvicinando. Siamo quasi arrivati. Eccola qua, si comincia a intravedere. Questa è la seconda moneta verde. La terza moneta verde si trova qui a Castello Corallino, all'interno di un edificio vicino la scritta Castello. Quindi qua, dovrebbe trovarsi di qua, l'edificio. Eccolo qua, lo vedo già dalla lontananza l'edificio. E questo qui, sulla collena, all'interno del secondo piano, primo piano, troverete la moneta verde. Adesso la prendiamo insieme, così la vedete anche voi. Eccola qua, già si intravede. Magari atterrate sul tetto, distruggete qui, e la moneta è vostra. Quindi praticamente mi trovo qui, vedete? Qui. A Castello Corallino. O meglio, Castello Corallo. Andiamo all'ultima moneta. L'ultima moneta verde si trova su quest'isola sperduta, nei pressi di Foschi Fumaioli. Qui in alto, vedete? In quest'isola troverete l'ultima moneta verde. Appena arrivo, ve la mostro. Si trova praticamente dietro questa roccia, qui. Quest'isola qui in alto a destra, dove c'è Foschi Fumaioli, mi raccomando. Scendete qua, e dietro la roccia troverete l'ultima moneta verde della settimana.